Mare piatto fino a due minuti fa cielo plumbeo ma c'è uno squarcio di un pallido sole l'isola che vediamo a destra è Scopelos e noi siamo diretti a neoclima dobbiamo passare all'interno di quell'isolotto che vediamo a prova via a sinistra e tra 3 miglia più o meno in tutto saremo arrivati